Lo scorso anno si erano riuniti a Firenze, culla del Rinascimento, patria di una rievocazione di grande suggestione come il calcio storico fiorentino. Quest'anno hanno scelto Gubbio e il Festival del Medioevo per darsi appuntamento. Al Convento di San Francesco si sono ottenuti, tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, gli stati generali della rievocazione storica, che hanno approfondito la proposta di legge, oggi in discussione alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati, relativa alla promozione, sostegno e valorizzazione delle manifestazioni come cortè in costume e giochi storici. Presente lo stesso relatore alla Camera, l'onorevole Marco Donati. Le rievocazioni storiche hanno un valore straordinario, tengono insieme le nostre comunità, rafforzano l'identità, ma soprattutto sono anche uno straordinario strumento di promozione dei nostri territori. Quindi assolvono molte funzioni economiche, sociali, identitarie e quindi hanno un valore anche significativo nel tradurre in atti pratici e tramandare la cultura del nostro paese. In questo senso la volontà è quella di riconoscerle prima di tutto, quindi creare un albo nazionale, ma in particolare anche dopo le difficoltà che hanno le amministrazioni locali, anche quello di tentare di trovare poche risorse che però sono bene utilizzate nell'organizzazione delle rievocazioni, sono un grande moltiplicatore anche turistico e promozionale, quindi sostegno da una parte culturale e dall'altra anche economico. Per Gubbio l'occasione di mettersi in vetrina, ospitando presidenti e referenti di tante manifestazioni storiche d'Italia che hanno potuto apprezzare la città medievale, per le feste d'Italia invece un momento di incontro e di confronto fondamentale perché il fine della proposta di legge è quello di fare da megafono alle esigenze di centinaia di associazioni a cui negli stati generali è stata data l'occasione di esporre proposte e perplessità. Noi vogliamo dare la parola ai rievocatori perché dal basso vengano fuori i problemi, le idee, le iniziative che possono convogliare in una normativa nazionale, in un'organizzazione generale. L'espressione da parte di chi fa la rievocazione storica crea una rete tra tutti i rievocatori oltrepassando i campanilismi dei vari paesi e quindi mette a disposizione di tutti informazioni che possono essere utili per fare l'attività di rievocazione ma anche per scambiarci informazioni e idee su come la rievocazione deve crescere. La rievocazione ha necessità di elevare la qualità delle rappresentazioni e le associazioni di rievocazione storica possono attingerlo anche da eventi come questo. Questo è un momento importantissimo per la rievocazione storica perché è il momento in cui dà il massimo di se stessa. Ci sono rispetto a 30 anni fa forse 4 volte gruppi e associazioni che fanno rievocazione storica come numero. Naturalmente non tutti hanno lo stesso livello qualitativo e questo scambio di informazioni può dare molto a tutti. Può essere utile per qualsiasi tipo di attività da parte dei rievocatori. Grazie.